Sunset Limited è un film del 2011 diretto da Tommy Lee Jones, che è anche protagonista della vicenda assieme a Samuel L. Jackson. Questo film è basato sull'omonima opera teatrale di Corman McCarty, che fra l'altro è stato colui che ha curato l'adattamento in versione, appunto, filmica. Un set solo, una stanza sola, una stanza di appartamento di un grande evidente caseggiato di una realtà urbana, molto semplice, umile, in cui ci sono due uomini, appunto, un bianco e un nero, Tommy Lee Jones e Samuel L. Jackson. Si guardano e si parlano. Tutto qua. È un film minimale, questo. Un film minimale che ci racconta, di fatto, attraverso le loro parole, i loro scambi, di queste due realtà. Queste due realtà che si sono incontrate improvvisamente. Perché? Perché il personaggio del bianco, Tommy Lee Jones, appunto, ha compiuto presso il Sunset Limited, un treno di quelle parti, della metropolitana o quello che è, un gesto terribile, o almeno ci ha provato, ed è stato salvato dal personaggio del nero, Samuel L. Jackson, appunto. Cosa accade, allora? Evidentemente, il personaggio di Samuel L. Jackson ha deciso di portarselo a casa, di chiudersi, assieme a lui, dentro al suo molto umile appartamento, sprangando la porta e quant'altro, e comincia, attorno a un tavolo, due sedie, a parlare. E cercano, in qualche modo, di... in qualche modo, forse, confrontarsi e venire a... si spera, in qualche modo, quantomeno lo spera il personaggio del nero, si cercherà di far passare questo terribile desiderio al personaggio del bianco, appunto. È un film, questo, di quelli in cui il budget probabilmente era limitatissimo, credo che sia un film televisivo per HBO, se non sbaglio. E, al di là di questo, comunque, evidentemente non necessitava di chissà quale messa in opera grandioso o quant'altro. È un film, questo, che si basa interamente sugli scambi fra i due interpreti, due attori che riescono a trasmettere davvero tanto allo spettatore. È tutto dialogo, questo film. È un continuo dialogo in cui c'è il confronto fra i due, che, in qualche modo, fanno venire fuori alcuni aspetti della propria esistenza, appunto, e, in altri casi, anzi, soprattutto, ad un certo punto, cominceranno a discorrere di che cosa? Di religione. Il personaggio del bianco è evidentemente un ateo, con delle posizioni molto precise, in questo senso, che non ha fiducia in se stesso, né nel suo prossimo, di fatto, in qualche modo. È probabilmente per questo che ha deciso di porre fine alla sua vita. In contraposizione con lui c'è il credente, il nero, Samuel L. Jackson, appunto, che interpreta la propria esistenza, anche con il proprio pregresso assolutamente tragico, drammatico, complicato e violento, come, in qualche modo, un piano di Dio. Un piano che lui, magari, non riesce a decifrare, ma che, disperatamente, in qualche modo, sembra essere il suo appiglio alla realtà, atto sommato. E lui interpreta tale realtà, in qualche modo, appunto, come parte di questo disegno. È un film che, in realtà, è un pochettino difficile da commentare, al di là di quelli che sono questi suoi elementi essenziali. Perché, di fatto, è di quei film che, un pochettino come, se vogliamo, altre produzioni che possa aver visto e che sono state di base, oppure sono divenute poi opere teatrali, hanno, attraverso il dialogo, attraverso il racconto, attraverso le parole, tutta la loro forza. Sto parlando, ad esempio, del mio caro L'Uomo che Venne Dalla Terra, o, perché no, The Big Cow Una, o, in tempi più recenti, posso aver visto, ad esempio, il film Americani. Questo film ci dà la possibilità di percepire, attraverso i due interpreti, assoluti, unici, di questa storia, appunto, queste due visioni completamente diverse del mondo. E i loro visi, la loro fisicità, questi elementi rendono perfettamente bene il tormento, la difficoltà, non tanto fisica, quanto profonda, spirituale, emotiva, mentale, che hanno, in vari aspetti della loro esistenza. Il bianco, principalmente, appunto, per questo suo fare disilluso nei confronti del mondo, che l'ha portato al suo gesto estremo, e in contraposizione, invece, il nero, che ha un passato violento, per cui è stato in galera, come dice lui stesso, appunto, e adesso cerca, in qualche modo, disperatamente, di essere una persona migliore di come è stato in passato. Non credo che ci sia granché altro da dire di questo film. È un film che può essere a tratti deprimente, soprattutto nel momento in cui viene dato slancio superiore al personaggio del bianco, con la sua visione pessimista dell'esistenza, e in generale della fede, e del credere a qualcosa, ed è un film, questo, che è un vortice. È un vortice di parole, fondamentalmente. Un vortice di parole che, in alcuni momenti, forse, è anche un pochettino eccessivo, pesantuccio, e forse soprattutto nella seconda parte, ma che comunque, con queste sue enfasi concettuali, dialettiche, appunto, con delle interpretazioni, secondo me, minimali, ma efficaci, e con questa capacità di far piombare lo spettatore assieme agli altri due personaggi attorno a quel tavolo, secondo me è molto riuscito. E quindi ve lo consiglio. Sunset Limited. Se vi capita, recuperatevelo.